E madafackeers, finalmente sono tornato più carico di prima, oggi andremo di nuovo dal cinesotto pisciasotto, ricordo ancora che ha venduto per sbaglio i cd porno alla mafia, speriamo che non ne fa altre delle sue cazzate assurde come questa, già sono incazzato per il fatto che mio fratello è stato ergastolato, maledetti ergastolatori, un giorno quando le cose si sistemeranno gli fico nel buco del culo tutte le caramelle della rossana che voleva svileto prima che grande fumo ci tradiva, un bel colpo da maestro ragazzi, a golf non mi batte nessuno, ci vuole ben altro per battere la mia superiorità, i guzzi, abbiamo ospiti, c'è sigello, ehi ciao sigello, e già, lo so, si vede dalla faccia che ho fatto una stronzata a vendere i cd porno alla mafia, non farmelo ricordare ancora, per colpa loro adesso siamo indebitati fino al collo ed è un miracolo se gestiamo ancora questo casino, tranquillo vuzzi, mi è venuto in mente un piano, andremo a rapinare il casino della mafia, così potrai riscuotere i tuoi debiti, vedremo che ci allargheremo, anche se adesso non rappresento più la famiglia dei negro vestri, lo dico lo stesso, sigello ritornerà e avrà ercazzo in fiamme, ma che cazzo, sei fortunato quanto un calciatore dell'albinolef che prende 5 pali e 5 traverse, ma la palla non entra manco per il cazzo, beh sigello, per prima cosa ti consiglio di procurarti degli esplosivi per fare una rapina con i controcoglioni, ma fai attenzione, devi essere rapido come Sonic il porcospino, capito? Beh dai, vado, l'ammazzo e torno, non so se avete capito sta battuta, ma fottesaga, ecco, adesso mi tocca fare un viaggio fino a lì per prendere un po' di dinamite, cosa mi tocca fare per organizzare una fottuta rapina verso l'altro casino? Bene, adesso utilizziamo la tecnica del teletrasporto, non la uso da un po' di tempo, speriamo di non essermi arrugginito col tempo, altrimenti Goku ci rimarrà deluso. 3, 2, 1, teletrasporto... Ecco, maledizione, lo sapevo che col tempo mi sono arrugginito, non ho gridato abbastanza forte riproviamo, 3, 2, 1, teletrasporto... Sii, mai ci sono riuscito, pumpatemi tutti quanti la Fafafafafafafdx Entra nella cava e fotti la dinamite Se non lo fai sei un mongoloide sottosviluppato xdxdxdxdxppppp Cosa vedono i miei occhi, Sigello il cogliancello sta fottendo della dinamite per organizzare una rapina Che vergogna, Sigello che fotte della dinamite per organizzare una rapina per il colpo all'altro cassino Io gli darei il regastolo Oh Mino, non ora. Non è il momento di cazziarti. Per ora è meglio che mi concentro a fottere la dinamite. Ma il problema, con che mezzo? Ci sono. Fotto il bulldozer e distruggo la cassa contenente la dinamite e prenderla. Purtroppo devo muovermi entro il tempo limite. Va a finire che quel coglione lì in fondo fa esplodere la dinamite e finisco per fregarmi da solo. E no, col cazzo che provi ad ignorarmi. Io sono il più grande omino degli ergastoli e rappresentare la legge di Sanloquendas e tu sei lo scarto della società sanloquendasiana, quindi sei da ergastolo. Se fotti dalla dinamite non aspettarti una repina facile. Ti aspetteranno dei sbirri ergastolanti pronti a farti il buco del culo e ovviamente ti ergastolano dalla Cina con furore. Ma che cazzo dico? Vabbè, io non bevo mai, ma questa faceva cagare. Ma io ti denunzio, perché stai fottendo la dinamite ai lavoratori? Ma ammalati, al posto di fottere la dinamite per preparare una rapina ad un altro casino. Io ti metterei in quarantena. Bingo! Ci sono pure l'omino delle denunce e l'omino del coronavirus a grattugiarmi lo scroto pelloso. Tieni duro sigello, ignorali, fotti la dinamite vai a puttane come sempre. La rapina urge, i soldi mi servono per ideare progetti migliori. Ma io ti denunzio, perché mi ignori e vuoi andare a puttane, caccione, caccione, caccione. Oh cazzo, manca poco tempo, devo sbrigarmi a fottere la dinamite, altrimenti dovrò ricominciare da capo sta missione del carciofo, che a parer mio avrei dovuto saltarla, poiché si rilevano i osetta. Merda, tra poco attivano il detonatore, cazzo mafanculo. Adesso mi sorge un dubbio. Come cazzo faccio a rientrare in questo burdozer? Non ci credo porca troia lo sapevo, non riesco a salire e devo sfracellarmi i coglioni ricominciando sta cazzo di missione. Al mio 3? Sparate subito quella fottuta dinamite. All'ultimo 6 la spara e gli aggravi s'accenti. Un rotto in culo ahahahahah. Ehi tu, come hai osato fottere tutta la nostra dinamite? Ragazzi, ficchiamogli tutte le pallottole nel buco del culo. Mi dispiace, ma ho una certa fretta. Non mi va di combattere contro voi muratori da 4 soldi. Quindi scappo con la dinamite, quindi grazie per il regalo che mi avete fatto. E ora? Come cazzo faccio a uscire da qui? Ho un'idea. Prenderò questa moto e uso la rampa per raggiungere l'uscita. Per prima cosa prendo la moto e poi scappo via da qui. Em, ciao ciao, è stato un piacere. Adesso scusate mi vado di fretta, devo organizzare una rapinozza della madonna. Cazzo se con questa rapina diventerò più ricco di Berlusconi agagagagaga. Che vergogna. Sigello che ruba la dinamite per i preparativi della rapina e poi prende la moto per scappare dalla tiga. Io gli darei l'ergastolo. Ma bravo Sigello il coglioncello, hai rubato la dinamite, sai quanto oro potevano trovare se esplodevano? Che vergogna un tizio che ruba della dinamite per organizzare una rapina. Io lo condannerei alla sedia elettrica. Ma porca di quella grandissima puttana svorrata in bocca dalla mattina alla sera. Non basta clomino dell'ergastolo. Ora ci mettono di mezzo pure gli altri omini che cercano di distrarmi facendomi cadere. Ma iate tutto quando affammo cacchita muort struntz. Che vergogna. Mi insulti. Io ti darei miliardo iardi tiergastoli. La dinamite è nostra e tu, fermati, non hai il permesso di portare via la nostra dinamite. Cazzo sono morto. Vabbè fa niente xddddd. Perfetto. Teniamo duro. Devo scalare soltanto le altre rampe della minchia e dirò addio a questo posto schifoso. Non riuscirete mai a sottrarmi la dinamite che vi ho fottuto con tanta fatica. Questa mi serve per organizzare una bella rapinozza cazzutissima. Non ostacolate i miei piani. Ovi fico nel culo il dildo viola che uso per scoparmi la mia fidanzata Denis. A proposito, ormai da miloardo l'ardesimi giorni che non la vedo, e da tanto che non trombo porco cazzo, mi serve una bella trombatina porca puttana, dopo il duro lavoro che sto facendo per organizzare star a rapinozza con i controcazzi. Ehi, ho una consegna per il cinesotto, cerca di essere delicato, ci ho messo tanta fatica per fottere questa dinamite. Siièèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè adesso, per festeggiare il successo di sta missione della minchia, scatenò un bel genocidio totale, per esprimere la mia felicità. Ora tiro fuori il minigà e scateno il pandemonio più assoluto. Befacnukul tántfig le bucchinstrunsemeeeeeeeee…. Oh porcaccia di quella puttanaccia, a tutte le strafottutissimissime unità, Sigello sta scatenando di nuovo casino per tutta la Sventuras. Il primo che lo prende potrà violentarlo analmente a luci spente. Siamo la fottutissima polizia ergastolante. Esci con le mani con il cazzo, M, con le mani bene in vista. Mani in arresto, lei è in alto, porca minca di nuovo a dire cose inverse, devo smettere di bere la grappa, mi sta uccidendo. Bene, siccome mi sono già sfracellato i coglioni di far aumentare l'incazzatura della polizia, facciamo un po' di inseguimento. Marameo marameo, non mi prenderete mai. Ah però, pensavo che le moto della polizia facevano cagare, ma non è male per gli inseguimenti della polizia. Solo che non è all'altezza rispetto alle altre moto, ma ci si fa l'abitudine. Visto che mi scasso la minchia di far l'inseguimento fino al casino, mi comprò una casa, me lo posso permettere visto che sono il grande cilungazzo e il negronazzo agagagagagagagaga. Ho un regalo per voi carissimi sbirri minchia, una bella gran tozza. Ficcatevelo tutto quanto in culo, grandissimi figli di una bagascia sborrata in culo. Ok, scusatemi per la volgarità, ma ogni tanto un po' di sfogo non fa mai male contro questi sbirri minchia, grandissimi figle bucchi. Oh porca puttana, madey madey, cazzo, stiamo precipitando. Maledetto cilungazzo il coglionazzo, io non smetterò di respawnare fin quando gli elicotteri esisteranno ancora sulla faccia della terra. Vediamo un po' se questa auto della polizia è abbastanza veloce quanto la moto. Cazzarola, meglio comprare una casa e dirigermi al salvataggio, beh questa missione l'ho quendizzata da me è un po' noiosetta, per questo motivo ho fatto un mini cazzeggio agagagagaga. Bene, vediamo di comprare sta casa da, così avvado ste tre stelle. Eccomi respawnato brutto coglione, questa volta non te la caverai, ora ti ficco tutti i miei proiettili nel tuo buco del culo. Congratulazioni, hai buttato nel cesso 30.000 dollari per una cassa che sembra una discarica abusiva, mentre ne valeva soltanto 15.000. Me ne paspo cazzo, non me ne fot propri, tanto sono più ricco di Berlusconi, e posso permettermi di acquistare pure tutto il mondo. E va bene ragazzi, e con questo il grande sigello il pazzarello vi saluta, alla prossima missione non si sa cosa ci aspetta, ma ho un brutto presentimento, che sta per accadere qualcosa di brutto, ma spero che è solo la mia impressione, alla prossima e statemi bene ciao.